la notizia in realtà la sapevamo già da mesi anzi per essere sinceri da anni visto l'immobilismo e l'abbandono che regnano attorno per il ponte sulla strada provinciale 231 direzione terlizzi un cantiere fermo da troppo tempo nonostante le continue sinalazioni ci sarà ancora da aspettare e chissà quanto ancora come se non bastassero già tutti gli anni perduti dal 2011 a oggi a ricordarcelo giovedì sono stati il sindaco Michele Abaticchio e Maurizio Montalto dirigente del servizio pianificazione territoriale generale viabilità trasporti della città metropolitana di Bari e che facendo il punto sulla situazione hanno messo in chiaro due aspetti il primo è che entro la fine della settimana prossima ed è stato il dirigente a dirlo ci dovrebbe essere la risoluzione contrattuale con l'azienda che doveva realizzare i lavori la quale sempre secondo Montalto non avrebbe collaborato nella consegna di documenti richiesti più volte il secondo passaggio poi è che con ogni probabilità si doveva procedere a un nuovo progetto e quindi nuovo appalto e finanziamento per completare tutta la parte che c'è ancora da fare e quindi i due sovrappassi anche per questi motivi allora parlare di tempistiche è inconcepibile anche perché l'azienda appaltatrice potrebbe impugnare il contratto e far allungare il tutto e rendere questa triste tristissima storia ancora più deprimente Grazie 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 Grazie